Arighe, elbe aromatiche e radici mettiamo sul piatto un po' di wasabi mettiamo un po' di salata riccia un po' di zenzero candito qualche foglia di rapamelo poi torniamo con le elbe aromatiche crescione finocchio marino assenzio menta ruta buon enrico acetosella portulacca senape nera guarniamo con due fiori di borragine tagliamo l'alga a julienne la mettiamo sul piatto e vi auguro un buon appetito! grazie 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 grazie